Salve a tutti ragazzi, ben ritorno di questo nuovo video, sono su Dead by Daylight quest'oggi Abbiamo Nea Garson, che ce l'ho bassissima, non c'ho niente come potete vedere, c'ho solo agilità Perk, lui è l'uno tra l'altro, solo questo C'ho messo la torcia, c'ho messo Regente Debole, Addensa, Regente di Nebbia Scura e basta Proprio così Iniziamo la partita e ci vediamo in game ragazzuoli Ci qua ragazzi, finalmente in game Mi sono scordato che ci sono Ah, l'agilità però è quando, è quella delle cose, si Io posso correre Ok, iniziamo a riparare, il primo gen Che sono? Maglialini quelli, porrelli Chissà che killer è Lo scopriremo tra un po' comunque Il fatto è che qui non ci stanno Le finestre mi pare Se ce ne stanno, ce ne stanno poche su sta mappa Non la conosco quasi per niente, l'ho giocato un paio di volte E basta, quindi non lo so Bello, testa d'abilità challenge Scusate ragazzi, mi fa un po' male la gola Ok, uno Ah, non sapevo Capirai sotto C'è il coniglietto C'è sempre la cacciatrice Cioè sempre, perché ho detto sempre non si sa però La cacciatrice Io vi faccio un po' di questo Forse è un po' il caso che scendo però Perché mi sa Faccio pure quelli due Prima o poi vengono presi Proverò La torcia Ma non sono un esperto di torcia Esattamente Quindi Anche se mi piace Come oggetto Cioè mi piace che c'è la torcia Insomma il suo potenziale Però Non so il timing perfetto Per fargli cadere Diciamo Il sopravvissuto dalle spalle Ho sentito un altro di qua di genere Forse è sotto Perché sì Non conosco bene la mappa Rivedo Quindi È sotto sicuramente L'altro genno che io sento Caspiterina Eccolo che è qui da queste parti Esattamente davanti a me Eccola Non me l'ha manco danneggiato Perfetto Finiamo questo Già stiamo a tre Già è buono Hanno fatto quello sotto Ok Oh bello Dwight C'è un po' di leader Attenzione Un attimo Fai il genno con questo Stiamo in tre Più leader Addio Penso che stava a venire Invece no Possiamo finirlo Sbrigamo se Nice Che è stato andato Dwight Mi ricordo dove stanno i gen qui Comunque Oddio Oddio Ti rivedo i conti Ok Manca un solo genno Ragazzi Abbiamo Così finito la partita Speriamo bene Speriamo Anche se la vedo molto difficile Proviamoci Eccola Caspitarina 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 Ok Andiamo subito Da quel gen Bella c'è pure Dwight Questa è fatta Dai C'è pure Dwight Questa è fatta Prima che arriva Non ti giuro Se mi vedeva a me all'improvviso Non è incavolava Corri verso l'uscita Corri verso l'uscita Nice Dai già stanno quasi Propri Andiamo a vedere Ok Andiamo un po' in giro Sennò quest'altro Non è così Quell'altro riesce a scappare Dall'altra parte Magari Ciao Ok Nice 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 Questa è vinta Ragazzuoli Pensavo di doverla perdere Invece La torcia Invece Ci sono riuscito A mantenerla Preferivo magari Un'altra mappa Un po' più L'aperto Perché questa è un subito A giocare Le queste mappe Così Però bene Va bene così Dai Ok Il pipe Guadagnato Perfetto Abbiamo fatto 14.000 Poco Però va bene E niente ragazzi Che dirvi Ci vediamo al prossimo video E ciao Alla prossima Alla prossima